Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo di nuovo con Sudottimi Dobbiamo arredare meglio questa casa Perché io ho arredato meglio questa stanza in ogni caso Che è per un po' vuoto Però in ogni caso, guardate Cioè qui si è arredato tutto sommato, carino È un po' vuoto, poi se mi rimangono soldi arredo meglio Perché non è possibile che mi viene arredato male Un castello, un castello Dobbiamo rifare la cucina La sala bimbi È orribile Dobbiamo arrendarla fashion Fashion Questo bagnetto è carino Tutto sommato Poi anche dobbiamo fare L'ho detto la cucina, sì l'ho detta Perché guardate la cucina Il frigo La sala da pranzo Cioè quello mi serve Ah no Se il magico Con la candela al centro non penso sia bello Vabbè almeno qualche soldino l'ho fatto Facciamo lo stesso muro e poi si cambia questa porta Si cambia questa porta Cioè veramente che è orribile Intanto muro Muro Veramente un muro decente E non voglio fare come qui Così Veramente un muro decente Bianco Bianco È un muro decente Però è troppo Cioè non so se mi avete capito Vuoto Può essere bello Per la sala da pranzo Mi piace Poi staff Andiamo Forse Andiamo su cucina Spiegato Tavoli Non mancano per le sedie Un small table Praticamente Praticamente Questo mi ha Quello mi ha rimborsato 8 euro Questo mi ha costato 6 euro Perfetto Perfetto Direi che è perfetto Almeno 2 euro Mi sono rimasto 2 Comunque ci ho speso molto di più Per fare quella La ragazza Mi ha speso tipo 200 euro Ma vabbè Qua Oh mamma Sono bloccata Nel tavolo Ok Adesso possiamo fare le sedie Ed è la mia rovina Le sedie Small chair Small chair Perché guardate 15 30 60 60 più 30 90 90 6 sedie 90 Invece 6 per 6 36 36 euro Spesi bene Poi mi rimarrebbero 41 euro Se metto le vintage chair 41 euro E non me la faccio La cucina Con 41 euro Al massimo Poi se mi rimangono soldi E li cambio Anche perché poi Ti do' fare sì Questa sala pranzo La cucina E la camera E la sala Bim Sì però è bruttissima Così C'è una sedia Quindi Da 90 60 Più 15 Diventa 85 Ma quale 85 75 75 Non me la posso Permettere 90 No 75 Sì 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 Me la posso Permettere Vedete Ma c'è pochissimo Questo pochissimo Però Fa un po' di differenza Mi rende Più bella Cioè Mi rende Cioè Praticamente Me lo fa La differenza Tra nel tipo Certo Qui non me la posso Mettere La sedia Quindi Da 75 Diventa Una 60 Perché Mica me la posso Mettere Non mica Mi posso Mettere No Avevo il tavolo Lì Ci ho sprecato Ci ho sprecato Ci ho sprecato Ci ho sprecato Speriamo che Me li ridiano Me li ridiano Non c'è No Ci ho sprecato Ci ho sprecato Qui ci può stare Una sedia Ma lì no Perché c'è la porta Mi man Più di 60 euro Mi rimangono Credo Spero almeno Sì Più di 60 euro Poi devo fare Anche qualche missione Siamo già a 5 minuti Perfetto 71 euro E' fatto per adesso La sala pranzo Adesso Sto facendo Un attimino Cioè Dobbiamo fare Qualche missione Perché Cioè I soldi Stanno finando Non mi posso Perdere I soldi Finiscono Così Che si fanno Altre missioni Infine Naturalmente E pensavo Ah il castello È finito Molto bello Sì Il castello Non è finito Questi cambiamenti Renderebbero Il castello 3000 volte Più belli 33 secondi E faccio Oltre 100 euro 33 secondi E faccio Oltre 100 euro Adesso Adesso Per i soldi Me lo posso Permettere Tra quello Di spendere 90 euro Perché mi rimanerebbe 110 euro 90 euro Però Quelli Sono dettagli Vabbè Adesso Più di 100 euro Ne ho 200 Vabbè 199 È un 200 Tieni Mangia Adesso Sono più Di 200 Di 200 Adesso Adesso Adesso